Le mascherine da indossare in aula anche durante la lezione per i bambini dai sei anni in su fanno ancora discutere. Non si placano le polemiche sulla nuova decisione del governo che questa settimana è diventata operativa. Tanti genitori che si sono opposti, sostenendo che quel di PCM sarebbe stato malinterpretato e che non comporterebbe appunto questo obbligo. Una battaglia intrapresa anche dall'avvocato di Pesaro Giovanni Orciani, che in qualità di papà ha voluto inviare al Consiglio d'Istituto della Figlia un ricorso per impugnare la circolare del Ministero dell'Istruzione che impone l'uso delle mascherine sui banchi. La circolare fa riferimento al comma 1 lettera S del nuovo DPCM, la quale dice semplicemente che l'attività educativa per la scuola dell'infanzia continua a svolgersi in presenza con l'uso delle mascherine obbligatorie. I DPCM di per sé sono atti amministrativi che non hanno alcun valore di legge. Hanno valore di legge solamente nel momento in cui un decreto legge che ci sta a monte gli legittima la possibilità di legiferare. Ora, questi protocolli sono stati fissati da un comitato tecnico scientifico nell'agosto di quest'anno, il quale prendendo a riferimento si legge proprio una situazione che è molto simile tra l'altro a quella attuale. Nelle raccomandazioni tecniche stabilisce che i bambini in una situazione di staticità seduti al banco con il rispetto della distanza di almeno un metro messo possono abbassare la panscherina perché siamo in una situazione di assoluta tranquillità. Leggere così in maniera sporadica questo articolo 1,9 lettera S semplicemente perché dice che è obbligatorio l'uso è sbagliato. Anche perché vorrebbe dire in questo modo inserire un obbligo di legge legislativo senza che ci sia la legittimazione a monte del decreto legislativo che lo consente. Quindi sarebbe illegittimo perché, ripeto, al di fuori di quello che gli consente il decreto legge, il DPCM rimane un atto amministrativo che non ha alcun valore di legge. E quello è un fastidio che porta a un calo di concentrazione che è del tutto inutile perché se qualcuno mi dice che da un punto di vista scientifico in forza del quale noi dovremo adesso in questo momento derogare perché un DPCM dice semplicemente che la scuola dell'infanzia dovrà continuare a svolgersi in presenza con l'uso delle mascherine dovrà derogare a quanto è stato stabilito fino adesso. Cercare di capire qui stiamo parlando dei bambini e della salute dei bambini veramente se questa è una misura assolutamente indispensabile, irrinunciabile o è un qualcosa sul quale invece ci si può ragionare perché se noi continuiamo a valutare questi protocolli che vengono adottati non in relazione al fine che devono raggiungere che è la prevenzione, diventano protocolli fini a se stessi che non servono a niente e in più possono essere dannosi perché ripeto hanno influenza sulla salute delle persone.